Ricordo molto volentieri la grande cavalleria, l'approccio molto cavalleresco, estremamente rispettoso veramente da altri tempi, di alcuni professori della scuola di quella generazione, nei confronti di tutti gli studenti sicuramente e di tutte le studentesse, ma in particolare nei confronti delle donne. Quindi da una parte ricordo con piacere questo, dall'altra ricordo anche con un certo sorriso il fatto che per tutto il tempo in cui credo sia una cosa condivisa anche dalle altre colleghe, credo che non si sia mai riusciti a farsi chiamare dottoressa o dottoressa con il titolo dal professor Radicati, sempre rigorosamente signorina o signora.